Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Life. La mia storia nella storia. E questo è il titolo dell'autobiografia di Papa Francesco che sarà disponibile nelle librerie nei prossimi giorni. La mia storia nella storia di Papa Francesco lo si troverà nelle librerie a partire dal prossimo 19 di marzo, per HarperCollins. Nel libro, il santo pontefice racconta quella che è la storia della sua vita, un po' come si può facilmente intuire anche dal titolo stesso dell'opera. Un vero e proprio viaggio insieme a Papa Francesco tra idee, azioni e pontificato. Come riporta Tgcom 24, Papa Francesco spiega. Life vede la luce perché, soprattutto i più giovani, possano ascoltare la voce di un anziano e riflettere su ciò che ha vissuto. Giunti a una certa età è importante, anche per noi stessi, riaprire il libro dei ricordi e fare memoria, per imparare guardando indietro nel tempo, per ritrovare le cose non buone, quelle tossiche che abbiamo vissuto insieme ai peccati commessi, ma anche per rivivere tutto ciò che di buono Dio ci ha mandato. È un esercizio di discernimento che dovremmo fare tutti quanti, prima che sia troppo tardi.